tante speranze tanta attesa in quel di maggione 2.507 metri di percorrenza per una doppia sfida che è fondamentale per il proseguo del campionato e soprattutto può dare e mettere dei verdetti che possono diventare pesantissimi a tra poco con una delle gare più competitive più belle più esaltanti e divertenti del modo estate Stefano Capelli una pista difficile dove staccare forte è fondamentale? Sì è una pista difficile diciamo che l'asfalto non è di migliori non è del livello assolutamente di Cremona però dai sono riuscito a migliorare il mio best e sono già contento quindi darò al massimo come sempre cerchiamo di stare attaccato al gruppo di primi e fare il meglio possibile come sempre e divertirsi Matteo Cristini sei qua tra le prime file con tanta voglia di fare la tua solita gara d'attacco Sì ho voglia di riscattarmi perché non sono andato benissimo come l'anno scorso però adesso andiamo qua davanti speriamo di attaccarci subito ai primi e andare Questa è una pista dove staccare forte fa la differenza? Sì è vero siamo messi bene in quello quindi speriamo di poter fare tanti sorpassi tutto pronto per l'inizio della gara 1 per quanto riguarda la race attack 600 gara al meglio degli otto giri con il pole man Simone Campanini che parte dalla prima fila a suo fianco Mattia Vignati team atomico terzo Alberto Betella seconda fila con Benedetto Copponi Mangini cappelli Cristini Pantella e bassi questi primi dieci si stanno per accedere i semafori si stanno per stagliare i semafori via partiti subito buona la partenza da parte di Campanini ma a fianco Bettella se ne va via e va davanti a tutti Bettella uh Mangini incastrato in una situazione un po' particolare poco edificante Cristian poco bello dalla dodicesima posizione cerca di risalire la china in qualche maniera si affianca Vignati che ha avuto una partenza bruttissima shock e davanti Bettella Campanini con Benedetto quinto un po' risucchiato nelle posizioni basse subito Benedetto all'attacco di Matteo Cristini che ha avuto un super spunto come sempre dall'ottava posizione si trova quarto Benedetto deve recuperare sappiamo che la situazione di classifica è particolarmente avulsa 92 91 Campanini Vignati Bettella un po' più sotto ma soprattutto terzo Benedetto che cerca di risalire con cappelli che cerca di sfruttare subito incontro rettilineo la scia per andare ad insidiare e ad inficiare di qualche buona posizione non riesce si deve accodare deve aspettare allora andiamo davanti con Bettella Campanini e vediamo alle spalle quello che succede si sta creando già un micro gruppetto e Benedetto deve inseguire stanno per ultimare il primo giro il primo degli otto giri Benedetto subito si fa vedere fortissimo nella chicane prima dell'uscita per quanto riguarda l'inizio del secondo giro Benedetto che cerca subito di infilare il diretto contendente Diego Copponi non ci riesce allora si accoda con Mangili vicino a Cristini e con tutti quanti i piloti che cercano di scalzarsi l'un con l'altro Cristian poco bello che si era detto particolarmente soddisfatto ed effettivamente ha avuto una grande partenza Vignati è in totale difficoltà Vignati e intanto Benedetto scavalca di nuovo Cristini che lo va passato si affianca Copponi eccolo lì William Benedetto passa Copponi se ne va via occhio a Bettella Bettella ha creato un solco tra sé Campanini monitor dei tempi alla mano il tempo che c'è tra Beltella e Campanini è particolarmente simile a livello di tempi rispetto a quello che c'è tra Campanini e Benedetto Benedetto è chiamato all'impresa un po' come Cristini che sta cercando di tenere duro e sta cercando di mantenere alta di fare proprio la sua voce allora Benedetto lo andiamo a vedere indugiamo proprio su di lui si è sbarazzato di Copponi sta cercando di avvicinarsi al duo di testa Campanini-Bettella con Campanini che si è riavvicinato in maniera importante a Bettella un elastico probabilmente un errore da parte di Campanini in precedenza che l'aveva allontanato e allora tra poco compare 3 su 6 e allora tra poco che dobbiamo capire se Benedetto ha grandi chance dietro sfida Copponi-Cristini molto interessante con Mangili che sta tentando di rientrare anche lui per una lotta al quinto posto che potrebbe essere assolutamente interessante e chissà che tra poco non si serrano le file davanti non si iniziano ad avvicinare tutti quanti i piloti si iniziano ad incastrare tutti quanti il motone di Cristini guardatelo lì con la sua numero 88 una livrea azzurra una scocca azzurra tutta sua sta cercando di mettersi alle spalle di Copponi e soprattutto di mantenere alta la voce di fare proprio sua questa gara Cappelli intanto che cerca di rintuzzare di ricucire di riavvicinarsi ai piloti davanti a sé Stefano Cappelli partiva dalla settima posizione non ha avuto una grande partenza ma sta cercando in qualche maniera di recuperare posizioni sta cercando in qualche maniera di recuperare tutto quello che aveva perso Cristini intanto continua a girare in questo caso da solo con alle spalle Copponi con alle spalle Mangili e la sua situazione deve essere monitorata perché tra poco potrebbe anche perché no subire un attacco anzi era Pantella e allora occhio perché davanti Benedetta ricucito lo strappo e allora a questo punto siamo praticamente a metà gara non ce n'è uno di quei tre davanti che riesce a fare il ritmo anzi Pantella prova ad andarsene Campanini lo insegue Benedetta ha ricucito totalmente lo strappo su Campanini adesso sì che siamo di fronte ad un triello e un triello spettacolare meraviglioso con Vignati che non riesce a risalire la china ha evidenti problemi subito ce ne siamo accorti dall'avvio della gara i problemi che ha avuto il buon Vignati sono stati molto importanti Benedetta intanto con Campanini lo vede e Bettella li vede entrambi e entrambi continuano a fare una gara a sé e entrambi continuano ad aver voglia di accentuare voglia di spingere per provare a prendersi la vittoria ma Benedetta non ci sta vuole recuperare Benedetta scavalca Campanini però Campanini glielo respinge mamma mia quasi contatto quasi collisione Benedetta lo scavalca sul passo straordinario di William Benedetta su Simone Campanini di forza di peso ha fatto un gioco di magia ma soprattutto con tanta forza di volontà coppone alle spalle Cristini Pantella Mangili tutti quanti piloti addirittura alcuni che incrociano le scie con Bassi Mangili che si infila alle spalle di Cristini e Pantella con Bassi che secondo me sta cercando il momento giusto per provare ad infilarli entrambi ma davanti super magia da parte di William Benedetta che ha scavalcato Campanini si getta l'inseguimento di Bettella questo quartetto ci farà divertire o morire sicuramente Cristini Bassi Mangili li abbiamo visti tutti quanti e intanto lì davanti William Benedetta che sta cercando di serrare le fila che sta cercando di avvicinarsi quanto più possibile ai piloti di testa Cristini sta cercando di risalire la china anche lui deve tenere a bada un quartetto che sta diventando sempre più funambolico estroso guardalo lì mamma mia Mangili e infatti vanno per terra va per terra Mangili non ha non si è probabilmente reso conto non è riuscito a tenere a freno la moto va per terra e allora Bassi qui che deve cercare di curarsi dall'attacco di Pantella che peccato fuori lì davanti Bettella Benedetta sesto giro e adesso sarà gara totale totale tra William Benedetta che subito prova a sfruttare l'inerzia e l'occasione su Bettella Bettella sta tenendo fortissimo sta facendo un ritmo forse nato ma Benedetta ne ha sembra averne qualcosa di più Campanini probabilmente un po' mollato deve assistere inerme alle spalle a questa super sfida super gara tra William Benedetta e Campanini che stanno continuando perdonatemi Bettella che stanno continuando ad andare a serrare le fila andiamo sul rettilineo vediamo se Benedetta prova a scavalcarlo si stava accodando Benedetta intanto Cappelli qui nel suo gruppetto inguaiato che si trova in una situazione importante con Taciti e Enco poco bello un po' non ha avuto una grande partenza e non è riuscito a sta soffrendo un pochino il anche forse il grado delle gomme Stefano Cappelli ma la gara è lì davanti Benedetta su Bettella lo passa Benedetta passa Bettella vediamo se ricompare Bettella si ricompare Bettella ma Benedetta si mette davanti mette alle spalle Bettella e adesso siamo a 7 su 8 Benedetta ha completato una rimonta super una rimonta super adesso vediamo cosa fa Bettella perché manca poco perché deve provare in qualche maniera a riprendersi la posizione perché sarebbe fondamentale soprattutto è fondamentale per William Benedetta chiudere davanti perché guadagna punti preziosissimi pesantissimi su Campanini che aveva fatto la pole su Campanini che si prende due punti e allora final lap Bettella sembra non averne bisogna capire se Campanini riesce addirittura a rimontare su Alberto Bettella che ha condotto in maniera magistrale la gala ma che in questo momento si trova in seconda posizione Benedetta sembra riuscire a dare qualche volta qualche strappo acquisisce qualche decimo decimi pesantissimi abbiamo visto in precedenza la caduta da parte di Mangili Bettella allunga sul contro rettilineo lo vedete con la sua camera intanto Cappelli con Taciti che ha preso davanti poco bello vediamo se riesce anche lui Cappelli a prenderlo per provare a scavalcarlo per provare a prendersi una posizione per provare se non altro a rendere meno amara una gara uno che poteva e doveva essere qualcosa di in più interessante per colui che aveva fatto una settima posizione in uno sedici zero zero uno come Stefano Cappelli poco bello uno sei dici otto centosettantanove aveva chiuso in dodicesima sta cercando di risalire la china ci sta provando ci sta provando anche riuscendo ricordatevi sempre che siamo al final lap che siamo verso la fine di una gara atomica da questo punto di vista che ha perso vignati come contendent in maniera abbastanza importante improvvisa con la cento undici sicuramente ha acquisito e ha avuto problemi alla propria moto il buon vignati benedetto è scappato occhio dietro bettella campanini può diventare una sfida per il secondo posto ma forse sì se campanini si avvicina se campanini ricuce c'è un doppiato occhio perché c'è un doppiato benedetto sta portando fondamentalmente la sua moto col suo bel sederone in prima posizione vuole la vittoria a tutti i costi william benedetto cappelli su poco bello riesce in una rimonta incredibile riesce a scavalcarlo in maniera importante super sorpasso di stefano cappelli su christian poco bello un cristian poco bello che era un po sfiduciato un william benedetto che non lo è un campanini che ormai sta davvero ronzando alle spalle e allora campanini prova a scavalcare bettella forse si è messo davanti le ultime curve che separano william benedetto dalla vittoria dalla bandiera scacchi e bandiera scacchi vince benedetto clamoroso campanini secondo su alberto bettella e dietro copponi e poi bassi e poi via via tutti gli altri piloti con la caduta di mangili che ha vanificato una buonissima gara vince vince di william benedetto che si prende 25 punti di peso secondo simone campanini terzo alberto bettella in una alla prossima Grazie a tutti.